Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. È morto l'attore e il regista italiano. Tantissimi messaggi di cordoglio. Ecco di chi si tratta. Il mondo dello spettacolo e quello della cultura sono in lutto per la morte di un attore, regista e scrittore. Ha recitato in un episodio del commissario Montalbano, ma anche nei film di Piccone e Ficarra e di Pasquale Scimeca. Il film di Ficarra e Piccone in cui ha partecipato è intitolato L'ora legale. È un film del 2017 scritto, diretto e interpretato dal duo comico Ficarra e Piccone. Di recente aveva scritto un romanzo, Un anno a Calmacca, ispirato alla sua esperienza amministrativa. In passato era stato anche assessore alla cultura di Sciacca, comune in provincia di Agrigento, facendosi promotore di varie iniziative, come la rassegna artistica. Punto nel Mediterraneo. Ma vediamo di chi si tratta. L'artista che ci ha lasciato è Vincenzo Catanzaro. È morto ieri. L'uomo aveva 76 anni e si è spento dopo una malattia che ha minato lentamente il suo fisico. La sua attività teatrale non è passata inosservata, tanto da essere chiamato anche da produttori cinematografici e televisivi.